Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui su Jump Force, pronti per disputare la prossima missione. Tu, vuoi sapere cosa sto facendo? Beh, posso capire la tua curiosità. Stavo osservando e studiando i miei nuovi alleati. Il nemico è estremamente potente, se vogliamo vincere è indispensabile collaborare. Ho pensato che conoscendo le capaci di Ati tutti avrei potuto migliorare il mio supporto. Ehi JD, giorno. Se non erro tu sei quello venuto dallo stesso villaggio di Sasuke. Sono Naruto Uzumaki. Sasuke ha detto che sei fortissimo, è così, vero? Non sta a me giudicare la mia stessa forza. Ma posso dire senza falsa modestia che me la cavo bene. Lo sapevo, Sasuke non è tipo da dispensare complimenti a casaccio. Mi è venuta un'idea. Perché non ci alleniamo un po' insieme? Che ne dite? Con piacere, non posso rinunciare a un'occasione simile. Allora andiamo nella sala d'addestramento. Una battaglia simulata? Sì, è il modo più efficace per tirare fuori il meglio da entrambi. JD, ti va di farci da arbitro? È una vera fortuna potermi allenare con te così presto. Ti mostrerò quanto sono determinato a eliminare tutti i Venom. Un alleato che non vuole mostrare la propria risolutezza non è affatto un alleato. Ah, sono Giorno io. Ah, vero, Giorno era devastante, me lo ricordo. Nello scorso video. Anche Naruto meno forte comunque. Wow, se l'è preso in pieno. No, 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 perché l'ha fatta da solo? No, me lo so beccato in pieno. Stupido, stupido solo. Vai, colpisci, no! Questo è il re, PM. Mamma, wow. Quanto mi ha tolto. Guarda, sto maledetto si piazza in difesa, va. Eh, dai, eh. No, ma ha sconfitto con un cazzotto. Dai però, Giovanna, che mi fai, Giorno Giovanna? Mi cadi con Naruto, su. Nello scorso appuntamento eri devastante. Ora, due colpi di Naruto. E te pareva. E te pareva che mi colpisse sta mossa maledetta. E ho rischiato pure stavolta, nonostante avessi dominato. Dopo la cinque millesima volta ci sono... No, no, sto scherzando, il terzo tentativo. Accidenti, è stato grandioso, che incontro. Grazie. No, sono io a doverti ringraziare. Il tuo stand, Volpe, è davvero impressionante. Affrontarlo faccia a faccia è una vera sfida. Al mondo esistono parecchie tecniche che ancora non conosco, come il Susanoo di Sasuke. Controllavi gli alberi, era l'arte del legno, somigliava allo stile del capitano Yamato. E poi cos'è quella specie di spirito? Non ho mai visto niente del genere. E tu, JD Gamer? Non pensavo che vi stupisse tanto. Ora capisco perché Sasuke ha parlato così bene di te. Usi un sacco di attacchi complicati e pianifichi tantissime tattiche come Shikamaru. Non c'è dubbio, sei proprio un fenomeno. Non sono abituato a tanti complimenti. Forza, facciamo un altro round. Questo sì che mi mette a mio agio. Vabbè, speriamo che il round se lo facciano per fatti loro. Ah, sì, meno male. Ma, ho completato? Le missioni chiave sono finite. Extra non ce ne sono. Ha davvero finito così? Vabbè, facciamo qualche missione libera e poi mi informo magari meglio, vedo. Difficile non lo posso fare. Allora facciamole normali, dai, vediamo. Allora, livello consigliato, livello 30. Io che livello su? Non so manco che livello su, figuriamoci. Livello 20. Ah! E allora mi sa che mi... Conviene andare nelle facili. Ecco, facciamo... No, questo l'ho completato. Facciamo questa, livello 15. L'arte delle tecniche Vegeta. Vinci per primo due round. Tempo limite 99 secondi. Vinci la battaglia con Vegeta e squadra. Ok. Mi prendo Madara Uchiha. E Frieza. Ah, tra l'altro c'è anche di là Frieza, non l'avevo notato. Vegeta contro Vegeta. Posso farcela da solo. Fatevi avanti. Gali Cannon! Che farà? Vai con la raffida di energetica. Cannon! Mi ha fregato, l'ha fatto prima. Gali Cannon! Ma com'è? Il mio colpo non è arrivato a destinazione. Sì. E' beccato queste raffiche di onde. Sono io il vero Vegeta. Sono io il vero Vegeta. Beccatelo pure tu, il lampo finale. Vai, fino al... Ma io ho tolto pochissimo. Ma perché io gli ho tolto pochissimo e lì tanto? K.O. Vai! Vince il vero Vegeta. Ah, round 2. Ah, è vero, questo era una round. Madonna, mi ha preso in controviede. Ora contro Freezer. Lampo finale. Mi ha preso in controviede. Mi ha preso in controviede. Mi ha preso in controviede. Ma ma... Oh. Mamma... Te mirate δεν è vero che tu fa? Chi ti mirate? Ma che tu... Vieni! Ma che tu... Ma che tu... Ma che tu... Ma che tu... Ho... neverà... Ma che tu... Ma che tu... Ho ho... Ho. Vai col Galica No, no, l'ha schivato No, no, no Aia No Eh, qua son morto, dai Oh No, son sopravvissuto, l'ho evitata Non so come ho fatto Ma l'ho evitata Perchè di stoccare lì il cannon Oh, è che faccio? Io attacco e quello Madara mette fine all'incontro, vai Vegeta se la squaglia, Madara vince Madara 18, Freezer 18 B, ho ottenuto un grado B Così è così, spezza spirito E raffica energetica Va bene, io per ora mi fermo qui Quindi iscrivetevi al canale Cerchiamo di arrivare a 400 iscritti Possiamo farcela, lasciate un mi piace Attivate la campanella per non perdere i prossimi video Bye, bye